questo è un libro l'abbraccio dei fiori in cui viene descritto dettagliatamente il test di percezione cutanea con cui possono essere scelti anche da soli anche in casa propria le essenze dei fiori di bac più utili per noi in quel momento ecco in sintesi come funziona il test messo a punto da ezio sposato occorrono 12 barattoli il coperchio è utile perché l'acqua può essere riutilizzata e quindi un barattolo può durare anche parecchi mesi i barattoli sono tutti pieni d'acqua e su ogni barattolo è indicato il nome di uno dei 12 guaritori identificati da edward buck cicori mimulus agrimoni sclerantus clematis centauri gentian verven cerato impaziens rock rose e water violet in ogni barattolo verseremo due gocce di uno dei 12 guaritori abbiamo poi bisogno di un po di carta da cucina tagliata in quadretti ecco inzuppiamo ogni quadretto ben bene e lo mettiamo su un punto dell'avambraccio della persona che vuole farsi il test li mettiamo in ordine in modo che ne avremo sei su un braccio e sei nell'altro è importante che sappiate l'ordine con cui sono stati messi pezzettini di carta quindi annotatolo da qualche parte o semplicemente seguite lo stesso ordine che hanno le vostre essenze nella scatola a questo punto puntate un contaminuti su più o meno cinque minuti chi sta facendo il test chiuderà gli occhi si rilasserà aspetterà all'inizio alcuni pezzettini di carta potranno sembrare più freddi di altri ma questo non è importante è importante quello che la persona percepisce alla fine dei cinque minuti gli si chiederà senti qualche parte del braccio o delle braccia più fredda o più pesante o che addirittura ti pizzica un po lui mi indicherà il punto che secondo lui è più evidente magari per aiutarsi chiuderà gli occhi e punterà il dito proprio dove sente la parte più fredda o più pesante poi mi indicherà magari un secondo punto che sente freddo o pesante due tre sono un buon numero di essenze per cominciare anche quattro o cinque ma ci si può anche fermare a una poi ecco il nostro boccettino ripieno di acqua del rubinetto possiamo anche aggiungere un cucchiaino di brandy come conservante ma anche no e mettiamo due gocce della prima essenza che c'è stata indicata e due gocce della seconda essenza che c'è stata indicata la nostra miscela è pronta la miscela si prende tutte le volte che ne abbiamo voglia due tre gocce direttamente sulla lingua ma anche un paio di gocce sulla fronte in mezzo alle sopracciglia più o meno lasciandole evaporare e anche cosa molto importante che funziona molto un impacco prendiamo un pochino d'acqua ci versiamo dentro due o tre gocce della miscela ci inzuppiamo un pezzettino di carta da cucina e lo piazziamo sulla fronte magari quando ci rilassiamo un po' o sul punto che ci duele sullo stomaco se ho mal di stomaco sulla schiena sulla gola sul naso se ho il raffreddore e lo lasciamo agire finché lo sentiamo freddo cinque dieci minuti mezz'ora posso farlo tutte le volte che voglio a questo punto ci sarebbero molte altre domande ci si potrebbe chiedere perché sono stati usati solo i dodici guaritori visto che ha parlato di 38 fiori e anche per quanti giorni è valida questa miscela dopo quanto tempo devo ripetere il test ma beh tutte queste domande le possono fare nel mio blog il blog di fata cicoria chiunque vorrà sapere qualcosa vorrà chiedere il consiglio io sarò là per lui o per lei o per loro ammesso che io sia capace di gestire un blog ma se ci fosse qualcuno ad aiutarmi io ti aiuto sai che una mano da fata centaurea l'avrei sempre basta chiedere l'odevole intenzione la vostra ma non ci si lancia così nei progetti senza averli ben ponderati o potrebbero finire male parola di fata genziana per esempio fata cicoria pensi di parlare di noi nel tuo blog perché io mi vergogno e poi se fanno delle domande proprio a me fata mimolus alle domande basta rispondere con sincerità questo è il mio consiglio e le parole di fata grimoni arrivano sempre dritte al punto io in un blog potrei fare degli articoli di fondo il parere di fata verven si intitolerebbero e farebbero capire come veramente sono andate le cose veramente non sei un po presuntuosa sai te lo dice fata sclerantus che non c'è mai solo una versione dei fatti e che bisogna eliminare i propri pregiudizi per scegliere a cuor sereno contando sempre sul fatto che c'è qualcuno lassù che guida i nostri passi basterà stare in ascolto questo è il consiglio di fata cerato volete anche un aiuto da fata clematis magari qualche poesia qualche bel disegno qualche favola raccontata siete ancora lì pensavo di trovare il blog già pronto ho capito se non ci si mette fate in pazienza a dare una mano le cose andranno col passo delle lumache ehi ehi piano non sarà poi che tutto questo lavoro sarà superiore alle nostre forze e ci metterà tutte sotto stress ho proprio paura che ma no ci siamo anche noi fatele antemo siamo tutti qui cosa gli aiutanti e gli assistenti beh allora coraggio cominciamo pure no no zitti voi là dietro sapete che non sopporto la folla e il rumore ho capito che ci siete ma vorrei che per favore interveniste solo se invitati se si fanno le cose con discrezione con stile e umiltà ci sono anch'io fata violetta aspettavamo solo te adesso possiamo davvero cominciare